Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Loredana Lecciso, stanca delle continue umiliazioni televisive subite da Romina Power finalmente ha deciso di prendere provvedimenti. Ecco da che parte sta al vano. La guerra legale tra Loredana Lecciso e Romina Power sembra essere solo all'inizio. La faida dura in realtà da anni, da quando l'americana e il suo ex marito si sono ricongiunti sul palco. I loro fan in tutto il mondo hanno da subito sperato che potesse esserci una corrispondenza anche nella vita reale, ma la presenza di Loredana continua ad essere una costante e il triangolo non accenna a smontarsi. La Power si è sempre detta ancora innamorata del padre dei suoi figli e ha parlato di un sentimento forte che il tempo e le varie vicissitudini accadute, non riusciranno mai a scantire. In tutto questo, la Lecciso è sempre stata nell'ombra, come seconda e parte scomoda di un quadretto familiare che tutta l'Italia spera di rivedere ancora a distanza di anni. La giornalista non ci sta più e ha preso una decisione alquanto drastica che si pone come stop immediato di un tira e molla che non lascia libera lei e i suoi figli da tanto tempo. Ecco di cosa si tratta e come ha reagito Albano a tutto questo. Loredana Lecciso prende provvedimenti contro Romina Power, da che parte sta Albano? Nuovo TV ha riportato un'esclusiva che riguarda l'attuale situazione in casa Carrisi Lecciso a proposito delle continue dichiarazioni di Romina Power. Dopo la diffida a Domenica inannunciata in diretta da Mara Venier, Loredana Lecciso ha deciso di prendere provvedimenti. A rivelarlo è una sua amica stretta che ha parlato di una donna stanca di essere sempre vista come l'altra e non come colei al fianco di Albano da anni. La giornalista starebbe in trattativa con i suoi avvocati per capire se è possibile procedere e tutelarsi legalmente dalle insinuazioni e i commenti che la Power fa ogni qual volta si parla del suo rapporto con Carrisi. Come reagirà il cantante pugliese a tutto questo, dopo anni di illusioni ed imbarazzo in diretta tv? L'uomo pare sia totalmente d'accordo con la madre dei suoi due figli Jasmine e Bido. Ormai è lei la donna al suo fianco e intende proteggerla, insieme ai ragazzi da tutto il clamore mediatico che spesso è stata la sua ex moglie stessa, con qualche commento di troppo a far scaturire. Loredana inoltre si definisce non libera professionalmente dopo le azioni legale intraprese da Romina e umiliata da tutto questo. Pare infatti che una sua prossima ospitata televisiva, sia stata cancellata proprio per questo motivo. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.